Allora, vabbè, facciamo una bella cosa. Noi dobbiamo cambiarci, vabbè, non proprio in diviso ufficiale, ma dobbiamo metterci solo qualcosa di riconoscibile. Flick e flop. Uno, due, tre. Flick. Allora, fuori in questi posti. Dal paletto in là, i miei, dobbiamo tutti insieme contare fino a dieci, no? Al dieci, cioè noi andiamo dietro, ci cambiamo, al dieci entriamo con i nuovi personaggi. La mia parte dice uno, l'altra parte dice due, tre, quattro, cinque, sei, sette, bene, non è che arriviamo con tant'otto. Otto, nove e dieci, lo evite tutti insieme e noi riusciamo. Ok. Vabbè, io non voglio neanche fare le prove. No, lo sanno, lo sanno. Iniziate voi, ok, con l'uno. Ok? Vai!